Fabiano Parisi, siamo sulla terrazza di casa tua, tra pochi minuti parti, vai ad Empoli, finisce così la tua avventura qui ad Avellino, però prima di lasciare la tua serina, è il caso di chiarire soprattutto gli ultimi giorni che ti hanno visto protagonista, perché tanti tifosi non hanno compreso il motivo di questo certificato. Che cosa è successo? Perché è scattato questo certificato? Ciao Marco, innanzitutto voglio ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto anche nei momenti difficili. Adesso sono qui per chiarire un pochino la situazione perché c'è stato un equivoco tra di noi. Sono due anni che gioco per l'Avellino e ho dato il massimo di me, proprio perché amo l'Avellino e sono il primo tifoso dell'Avellino e soprattutto sono un lupo. Il primo anno in Serie D è stato un anno bellissimo e ringrazio il presidente De Cesare che comunque è riuscito a dare tanto alla provincia e a noi calciatori. Poi l'anno scorso, il primo anno di Serie C è stato un anno particolare perché appunto sono partito con l'addestramento tecnico, anche se meritava anche qualcosa di... Avevi tante richieste, dall'Inghilterra alla Lega Pro con contratti già importanti, però che arrivò questa lettera, addestramento, l'Avellino stava in difficoltà, hai accettato senza problemi e hai giocato per un anno, lo possiamo anche dire, a 740 euro più o meno. A 740 euro ho rifiutato un contratto di 100.000 euro l'anno, appunto proprio per l'amore dell'Avellino. Ho giocato bene, ho dimostrato le mie potenzialità, le mie caratteristiche durante il campionato, anche se dopo 15 presenze loro comunque mi potevano trovare un adeguamento al contratto. Cosa che Carlo Musa, se non erro, stava facendo prima di andare via. Sì, sì, Carlo Musa, già avevamo trovato un accordo di tre anni di contratto a un buon prezzo, mentre dopo 15 presenze l'Avellino appunto mi poteva fare questo nuovo adeguamento di contratto. Allora lo faceva comodo tenerti a 740 euro, fino adesso nessuno si era preoccupato di adeguarti a questo contratto, però arriva questa trattativa, tu nel frattempo cambi procuratore, si sta trattando tra Empoli e Avellino, c'è questa richiesta, all'improvviso devi arrivare a casa questa PEC di cui non sapeva nulla nemmeno il tuo agente. Per quanto riguarda quest'anno appunto i defossi devono sapere bene la situazione, perché non sono un mercenario io, cioè io amo l'Avellino e ho giocato anche rischiando la mia vita con la costola rotta, cioè nemmeno mia madre lo sapeva che avevo la costola rotta, perché se lo sapeva lei non mi dà aver permesso. Questo riguarda in Serie D quando non avevamo Under con Bucaro? Appunto i defossi lo devono sapere, perché comunque io ho dato sempre il massimo, ho dimostrato tutto me stesso. Poi per quanto riguarda quest'anno ci sono partiti di ritiro a Sturno, cioè dal primo giorno eravamo solo 6-7 ragazzi, compresi la Beretti, ed io insieme a Silvestri e Rocchi eravamo gli unici della prima squadra. sempre con l'addestramento, cioè ancora dovevamo trovare un accordo tra noi, tra io il procuratore e la società. E comunque io ho continuato anche rischiando di farmi male, perché se mi facevo male, qualcosa che... cioè nessuno mi correva dietro. Quindi ho rischiato sempre con l'addestramento tecnico, nemmeno un rinnovamento di contratto, cioè dopo 15 giorni di ritiro mi arriva una pecca a casa dicendomi che sto giocando ai minimi federali. Fino al 2023 avresti dovuto giocare ancora ai minimi federali, 1.200 euro, quindi addio Empoli, addio sogni di gloria, carriera, no? Sì, io mi sono sentito un pochino pugnalato alle spalle, cioè non mi hanno fatto una chiamata per sei mesi, non si sono fatti sentire né di Somma né del presidente D'Agostino, e io sono rimasto intrappolato qui ad Avellino. Io per l'amor dell'Avellino sono andato a Sturno, anche rischiando di farmi male. E ho continuato a fare la preparazione perché appunto io sono un professionista e devo fare il mio lavoro. Poi dopo questa lettera, a quanto ho capito, tu avevi anche espresso al tuo agente la possibilità di restare ancora per un anno. Però è arrivata questa lettera, è stata una dichiarazione di guerra, avete deciso di andare subito via, no? Sì, ma infatti il mio pensiero era quello di rimanere ad Avellino, anche se attraverso le interviste del presidente D'Agostino ci stava quell'intenzione di vendermi, perché io l'ho capito, non è che... Infatti ho capito la situazione, io comunque sono andato in ritiro, dopodiché finito il ritiro siamo tornati qui ad Avellino per 3-4 giorni, abbiamo fatto, ho parlato con il procuratore per vedere un pochino la situazione, come è stabilita, come è stammessa. Di somma non si faceva sentire, nessuno si faceva sentire. Allora io ho detto, ma qui è la situazione, come deve procedere? Insieme al mio procuratore abbiamo deciso di, appunto, per chiarire questa cosa del certificato di ansia depressiva, che non è assolutamente una cosa cattiva nei confronti dei tifosi oppure della società dell'Avellino, ma è una cosa più per trovare un punto di incontro tra noi e la società, perché comunque io se mi facevo male durante l'amichevole è sempre quello, cioè dove andavo a sbattere. Da quello che ho capito però, insomma, si è creato tutto questo polverone, tu vai via, hai salutato D'Agostino, hai salutato Di Somma, hai avuto modo? No, no, non l'ho salutato ancora, penso che successivamente lo farò. Ma con Di Somma che rapporto hai avuto in questi anni? Bene, cioè ci conosciamo, siamo amici e tutto... Qua ti chiedo sincerità, perché tu per un anno intero hai giocato con delle parole che ti rimbombavano in testa, a cui ha fatto riferimento anche il tuo procuratore, Paganese Avellino Coppa Italia. Tu dovevi andare in Serie D, dovevi giocare al massimo in panchina e essere l'alternativa a Micoschio, mi sbaglio. Sì, sì, ho sentito anche delle parole molto crudeli nei confronti del giocatore che appunto non voglio entrare nel particolare. Vabbè, sei troppo buono e questo ti fa onore. Ai tifosi invece non tutti hanno compreso questa cosa, quindi sei passato da un giorno all'altro ad essere il loro idolo, essere il traditore, il mercenario, come hai detto. Però Avellino, insomma, penso che lo porterai nel cuore, perché poi tu abiti qua. Sì, per quanto riguarda i tifosi, loro dovevano capire appunto questa situazione, perché era una situazione molto complicata. Leggendo i giornali, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, appunto, non sapevano com'era la situazione. Infatti sono venuto qui per chiarire la situazione, com'è stata presa, anche un pochino sotto campo, perché comunque tu da Agostino entrando, diciamo, in una società dicendo che vuoi valorizzare i giovani, soprattutto quelli irpini della città, tu comunque a me mi devi, diciamo, mi devi fare un contratto adeguato che comunque mi dà il consenso di rimanere qui ad Avellino, perché se ci tieni veramente, comunque ci devi puntare sui giovani. Senti, prima di parlare della nuova avventura che vai ad affrontare adesso ad Empoli, ripercorriamo un po' questi due anni. Eri due anni fa in ritiro con l'Ercoranese, poi ci fu l'Avellino, si aprì questa prospettiva, Carlo Musa ti chiamò e sei arrivato. Primo anno, grandi soddisfazioni, una grande vittoria, soprattutto quel Avellino Lanusei, ce l'hai ancora stampato? Sì, sì, quella è una partita fantastica, c'è, indimenticabile. Eravamo una squadra fortissima, giocatori tutti importanti, forti, si era creato un bel gruppo, e appunto siamo riusciti a trovare il massimo di quello che potevamo vincere. Di quell'anno è la partita che ricordi meglio o ce n'è qualche altra? No, no, quella è la più importante. La finale a Rieti lì è indimenticabile. L'hanno appena messo alle spalle, invece, che cosa ti lascia? Ringrazio soprattutto il mister Capovano, che comunque mi ha dato tanto sia per quanto riguarda la fase difensiva e la fase offensiva, perché comunque lui anche a livello mentale mi ha dato tanto, perché comunque lui, come si sa, è un grande motivatore. E' stato un anno molto particolare, anche per difficoltà societarie. E quindi siamo noi gruppo, non abbiamo tralasciato i momenti difficili della società, e appunto ci siamo mentalizzati sul campo e sulle cose da fare. Quest'anno pure avevi iniziato questo gruppo che sta per nascere. che impressione ti ha dato, dal mister a qualche compagno che hai lasciato? Ah, il mister è un grandissimo mister, comunque è importante per la categoria, ha vinto tantissimo. Ci stava un buon rapporto tra me e il mister. Comunque per quanto riguarda la squadra, credo che sia una buona squadra. Lavelino ha fatto una buona squadra, e i nomi ci sono e mi dispiace che appunto volevo esserci anche io, però ci sono stati degli imprevisti e delle incomprensioni tra noi e la società. Mi dispiace tantissimo. Dispiacere però, c'è anche adesso la contentezza di andare in una categoria superiore, superiore, filmi un quadriennale, cambia la tua prospettiva. Con quale carica vai a Dempoli oggi? Sì, oggi vado a Dempoli e appunto stasera arrivo lì a Dempoli e conosco il direttore Accardi, che è un grandissimo, come ho sentito per telefono, è una grandissima persona e appunto mi vado a misurare in una categoria superiore dove cercherò sempre di dimostrare le mie caratteristiche e le mie potenzialità. Adesso la domanda più difficile, perché qua, lo so, tuo padre, tua mamma, stanno dietro i fratelli, devi fare i ringraziamenti. Non so che lista c'hai, c'è a disposizione il microfono, chi vuoi ringraziare? Per prima cosa ringrazio la mia famiglia, i miei fratelli, i miei zii, tutti i miei parenti, anche il mister Roberto Filarmonico, il maresciallo Giorgio Del Grosso, ho tantissime persone da ringraziare che comunque mi sono stati vicini nei momenti. Hai partito proprio dagli albori, devi partire da Limone, da quando sei... Dal mister Limone, tutta la gente che appunto mi ha aiutato durante questa crescita. Poi c'è stato a Roma, Benevento, i tifosi, c'è qualche club in particolare? Il club di Venticano, ma soprattutto tutta la tifoseria che appunto è meravigliosa e che spero un giorno di ringraziare, non è un addio, non è un arrivederci. Grazie per la visione!